non è denigratorio, non si tratta di denaro, ma qua è la meraviglia e ci sta tutto un concetto concettuale, qui ci sta la carrozzeria di caro, qui c'è il mestiere della carrozzeria quella artistica, quella del pezzo unico, c'è il volante quello che fa tanto De Braille a Spalanca perché sono la Pantera, sono anche la Tiche, sono anche il Jaguar, ma soprattutto c'è l'arte, questo è veramente, come direbbe un personaggio bieco, è un'opera d'arte immobile, veramente, perché qua non è un lavoro di carrozzeria, questo è un lavoro painting, qua è Mario Schifano probabilmente, qui ci sta Morlotti, ci sta Kandinsky, c'è Shostakovich, c'è Dabusti, cioè qua c'è tutto, qua c'è tutto, c'è la voglia di preservare, c'è la voglia di mettere quello che nel 78 gli aveva regalato su, oggi, su Novella 2000, l'atteresso da parabrezza, quello che non fa infucare la macchina, gli fa prendere un fuoco, ecco è bella la lavorazione un po' minimalista, anche un po' concettuale, abbiamo anche un po' di pop art, di painting art, abbiamo un po' di prodotto gallico, è straordinario, è targa originale, targa originale perché il collezionismo lo pretende, è anche un po' circolatorio, è anche un po' così, caraibico, anche brasilero, l'impianto stereo assolutamente funzionante, è a depressione, beh insomma, secondo te sto male, la passione razionale, il collezionismo, quello di livello, straordinaria, come faccio a circolare? Non lo so, ma circola anche il mio prodotto ripponico e quindi se circolo io, circolo anche lui, targa CZ, cazzo, viva la vita, tutta la vita, bella mattina. Grazie a tutti.